allora prima si vedeva meglio anche con quella di quella grossa accesa aspetta adesso accendo quella grossa attento a non buttarlo giù solo con queste forse si vede aspetta passa di qua di nuovo non muovere tanto aspetta io adesso accendo tanto tu lascia lì così si vede il tubo ma non si vede più la cosa voilà